L'alcol è usato da molte persone come disinfettante o per la rimozione dell'adesivo. Ma ci sono molti altri usi, oltre la disinfezione, che la maggior parte delle persone non conosce. Può persino essere utilizzato in campo cosmetico. Ecco perché questa donna spruzza alcol sul suo letto. Elimina le cimici del letto. Questi insetti non possono tollerare ambienti acidi, il che rende lo sfregamento dell'alcol, noto anche come isopropanolo, un rimedio efficace. Per utilizzarlo basta mettere questo prodotto in un flacone spray e spruzzare su tutto il letto. E in qualsiasi luogo si sospetta che possano essere nascosti. Tuttavia ti preghiamo di notare che per il suo corretto funzionamento è necessario ripetere l'irrorazione ogni settimana. Questo permetterà al materasso e alle lenzuola di rimanere disinfettati e senza cimici del letto. Inoltre, dopo l'applicazione del prodotto, è necessario arieggiare il materasso e la biancheria del letto per evitare che l'odore di alcol impregni il materiale. Uso come deodorante Se all'improvviso finisci il deodorante, puoi usare l'alcol come sostituto al volo. Aggiungi 15 gocce di un olio essenziale a prova di pelle, come la lavanda o l'albero del tè. A un piccolo flacone di alcol in spray ha nebulizzazione fine. Ma assicurati di non applicarlo subito dopo la rasatura. Rimuovere lo smalto per le unghie Se si desidera evitare le sostanze chimiche aggressive che spesso si trovano in commercio come solvente per le unghie, puoi utilizzare alcol puro. Potrebbe volerci un po' più tempo per rimuovere lo smalto completamente. Ma ti proteggerà le unghie. Niente più peli incarniti I peli incarniti sono piuttosto fastidiosi non solo per la pelle rossa irritata, ma anche per il brutto aspetto. L'applicazione di un po' di alcol sulla pelle può alleviare notevolmente qualsiasi irritazione, lasciando la pelle di nuovo liscia. Pulisci la tua pelle La maggior parte delle creme e degli unguenti per combattere l'acne contengono perossido di benzoile. Se invece strofini con l'alcol, ottieni lo stesso effetto grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e lenitive. Utilizza questo prodotto per disinfettare eventuali brufoli e acne esistenti, ma anche per lenire la pelle circostante e aiutare a prevenire la comparsa dell'acne. Quando si utilizza alcol sul viso, utilizzalo solo sulla parte di pelle interessata, in quanto può danneggiare la pelle sana. Eliminare i pidocchi Lo sfregamento dell'alcol è ottimo anche per rimuovere i pidocchi. Riempi un flacone spray con alcol e aggiungi qualche goccia di olio di lavanda. Vai all'esterno e applica la miscela generosamente sul cuoio capelluto e sui capelli. Pettina i capelli per rimuovere i pidocchi morti. La divisione della sanità pubblica del Wisconsin raccomanda di lasciare i pettini di pidocchi usati A bagno nella miscela per almeno un'ora per assicurarsi che tutti gli insetti siano eliminati. Piaghe da freddo Il virus dell'herpes si trova nella stragrande maggioranza della popolazione. Anche se l'85% delle persone è portatore, solo alcuni sperimenteranno i suoi effetti. Se si verifica un tale problema, usa alcol isopropilico al 70% sulla piaga. Secondo l'Università del Michigan, questo accelererà il recupero. Impacco fresco fatto in casa. È risaputo che l'alcol non congela. Si trasforma invece in una massa spessa e fredda. È per questo che è possibile utilizzare l'alcol per fare un cuscinetto di raffreddamento. Per fare questo, è necessario mescolare alcol e acqua in un rapporto 1 a 2 e mettere la miscela in un sacchetto con chiusura a cerniera. È importante rimuovere quanta più aria possibile prima di mettere il sacchetto nel freezer. Attendi un'ora prima di usarlo come impacco di ghiaccio per un infortunio o, per esempio, per raffreddare il pranzo durante un'escursione.